Si avvicinano i momenti attesi in cui nei comuni di Padula e Monte San Giacomo le due elette donne sindaco presteranno giuramento e si insedieranno ufficialmente nel loro lavoro alla guida dei rispettivi comuni. Michela Cimino e Angela D'Alto hanno provveduto a convocare i primi consigli comunali nelle vesti di prime cittadine. Venerdì 15 ottobre alle ore 18 sarà Michela Cimino eletta sindaca del comune di Padula a prestare giuramento nel corso del primo consiglio comunale che la stessa ha convocato nel suo nuovo ruolo dopo che nella precedente amministrazione aveva ricoperto l'incarico di vice sindaco a fianco dell'uscente Paolo Imparato, oggi ultimo eletto tra le file dell'opposizione, dopo che alcuni mesi fa aveva deciso di revocare l'incarico di vice sindaco ed assessore alla stessa Michela Cimino. Presso l'aula delle conferenze della Certossa di San Lorenzo il consiglio comunale di Padula si insedierà ufficialmente con la sindaca Cimino che dopo le dovute verifiche sulle condizioni di elegibilità degli eletti presterà il suo giuramento davanti alla comunità con la fascia tricolore. A seguire saranno comunicati i nomi dei componenti della giunta comunale e del vice sindaco che affiancherà Michela Cimino in questo nuovo percorso per il comune di Padula. Al termine della cerimonia la prima cittadina e la sua amministrazione regaleranno un momento di festa agli intervenuti con un buffet di ringraziamento. Anche a Monte San Giacomo ci si prepara il momento del cambio ufficiale alla guida del comune. Seppur la neo eletta sindaca Angela D'Alto è già al lavoro nel suo nuovo ruolo come la sua omologa di Padula sarà giovedì 21 alle ore 19 presso la sala teatro di Palazzo Marone il momento emozionante in cui indossando la fascia tricolore presterà giuramento davanti al popolo e successivamente comunicherà i nomi dei componenti della nuova giunta comunale di Monte San Giacomo. Due percorsi politici che si intrecciano. Anche Angela D'Alto come Michela Cimino infatti ricoprendo il ruolo di vice sindaco nella precedente amministrazione nei mesi scorsi era stata sfiduciata dall'ormai ex sindaco Raffaele Accetta che all'esito del voto dello scorso 4 ottobre non è stato rieletto passando ora tra le file dell'opposizione. Due donne, due ex vice sindaco, due donne di politica sfiduciate dai loro sindaci, due donne sindaco che con la determinazione e la voglia di mettersi in gioco e di dimostrare il loro valore hanno battuto gli stessi primi cittadini che li avevano sfiduciate e ora due donne che in contemporanea prendono le redini di due comuni del Vallo di Diano in un contesto politico amministrativo locale fin qui dominato dalle presenze maschili.